Era il pomeriggio del 29 ottobre del 2018 quando un'onda colpisce in pieno e distrugge il muro del porto di Rapallo. È il momento che sancisce la violenza di una mareggiata che per le ore successive flagellerà senza pietà le coste del Tiguglio lasciando danni, distruzione ma fortunatamente nessuna vittima. Due anni esatti sono passati da allora e tante cose sono state messe a posto con fatica e tenacia dalla strada per Portofino alla diga foranea di Santa Margherita Ligure. Molte attività commerciali hanno ripreso tra mille difficoltà in un contesto, quello attuale che è andato complicandosi con la pandemia. A Rapallo resta un tassello da mettere a posto, rimasto incompiuto e stoppato ed è proprio quello del porto Carlo Riva. Uno scalo privato finito al centro delle cronache giudiziarie per presunti illeciti della società concessionaria nello smaltimento dei relitti con i vertici finiti in carcere e una messa in sicurezza che doveva partire dopo un lungo iter burocratico ma fino ad oggi rimasta ferma. Per la città di Rapallo la diga foranea ripristinata in parte ma non ancora definitiva rappresenta una difesa per il suo lungomare. In queste ore però la messa in sicurezza potrà ripartire grazie all'ingresso nella società porto turistico internazionale di Rapallo della Bitsy & Partners che porterà risorse e progettualità per lo scalo. Soddisfatto per l'accordo raggiunto il sindaco di Rapallo. A seguito del passaggio in consiglio comunale sarà fondamentale partire subito e a passo spedito con i lavori, sottolinea Carlo Bagnasco. Notizia quella dell'accordo con l'imprenditore Davide Bizzi accolta positivamente dagli esponenti dell'opposizione in consiglio comunale che chiedono però che si riservi particolare attenzione su alcuni aspetti del progetto che sarà messo in campo e in particolare alla partita delle opere di urbanizzazione collegate. Aspettiamo a leggere i dettagli del lato supplettivo per capire esattamente cosa c'è scritto. Abbiamo già detto che vorremmo valutare meglio se ci fosse scritto un eventuale allungamento sul quale il sindaco non ci ha saputo diciamo dire nulla né qualcosa sugli eventuali danni che il comune può chiedere a terzi. L'importante ed è una cosa che noi abbiamo chiesto già nell'ultimo consiglio comunale è che siano garantiti i posti di lavoro per gli attuali occupanti. Questo è fondamentale per noi e che semmai vengano incrementati e che i lavori vengono fatti il più presto e si possa operare. L'imprenditore Bizzi ha fornito tutte le garanzie che il comune aveva chiesto e questa è la cosa principale.